A Cascina Triunzi ha sei mesi di lavoro intenso dentro quello che sarà uno spazio costantemente gestito da Conf Cooperative dove si alterneranno le diverse federazioni, si potranno alternare le diverse regioni che saranno interessate a partecipare all'evento, amministrazioni locali, cooperative dei diversi settori che comunque hanno tra di loro un filo che li lega ai tematismi dell'Expo 2015.